Hai un problema legale? Non rinunciare alla consulenza di un legale affidabile. Muoversi per tempo è importante e farlo in modo intelligente ancora di più. Con lo studio legale Lombardo l'avvocato è sempre con te, via email o in videoconferenza, ovunque ti trovi. Non dovrai più richiedere ore di permesso al lavoro, affrontare il traffico cittadino, temere sorprese al pagamento. Puoi fare tutto ovunque ti trovi, ti basta un computer o un tablet. Un servizio più veloce senza rinunciare alla professionalità. Entra nel nostro sito www.studiolegalelombardo.net Scopri le potenzialità che ti offre online lo studio legale Lombardo. Avrai sempre accesso all'area clienti, dove poter visionare l'attività svolta nel tuo interesse. Potrai risparmiare tempo e denaro. Più vicini a te, più vicini alla soluzione del problema.